ragazze tempo come stamattina vi devo dire che è piovuto poco 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 vedete proprio il balcone neanche si è bagnato io no ragazze di andare in palestra non se ne parla perché mi sento mi sento stanca mi sento moscia ho finito di spazzare qua vi faccio vedere la cucina c'era una cucina da fare che non vi dico però tutto lavato tutto già rimesso a posto quello che mi disturba quando queste cucine da fare mio marito che mi fa la premura allora in quel caso io si mi nervosisco di fatti ieri gli ho detto non toccare niente ci penso io e quando sono tranquilla che mi faccio le cose col mio tempo dico va bene mi dà fastidio quando lui comincia li faccio i piatti così usciamo e lui subito si mette a fare le cose con la premura o fa premura a me allora in quel caso io mi incazzo da morire e mentre stamattina mi sono fatta con grande piacere tutta la mia cucina bella sistemata o riproposato di nuovo è tutto quello che era stato messo in giro e quindi questo ora ho spazzato qua tutta la zona cucina e la zona pranzo e ora devo andare a fare il bagno però ragazze vi ripeto proprio di andare in palestra non se ne parla vediamo magari anche perché vi ripeto del po me nel primo pomeriggio questo impegno perché al limite se non dovevo uscire verso le 4 magari me ne andavo in palestra e poi pensavo appunto di passare il pomeriggio a riposarmi invece ho questo impegno quindi vediamo domani speriamo che domani appunto io me la senta e magari faccio giovedì e venerdì tra l'altro mi pare che il maltempo continui quindi dico non c'è neanche all'orizzonte di andare a mare maia si sta riposando e non vi dico quanto mi piacerebbe raggiungerla e riposarmi pure io perché oggi è così non lo so forse il tempo mi sento un pochino moscia ragazze guardate questo cuscino di maison du monde questo bianco enorme ma guardate quanto sta bene anche nel dondolo questo è un cuscino che sta bene ovunque era messo sul letto ora sul letto ho messo questo qua di chea è quello l'ho messo la ma guardate quanto sta bene è proprio la classe di di questi vizi di questi merletti in questo dondolo sta benissimo naturalmente certo quello è un cuscino che costa 40 euro non è un cuscino che costa 6 euro che c'è amore e si amore lo so ma io ti ho salutato vita mia ti faccio tutte le carezze bimbo mio vita mia e quindi dicevo è un cuscino di 40 euro e quindi veramente sta bene ovunque ragazze vi volevo dire che ieri sera io e mia figlia ci siamo ordinate delle altre cose su shane allora io ho preso questo fondotinta e l'ho preso in una colorazione più scura che adesso non ricordo come si chiama e l'ho presa appunto per utilizzarla in estate essendo appunto abbronzata quando voglio che ne so qualche uscita importante e voglio uniformare bene il colorito perché poi in estate naturalmente una volta che ci si abbronza un po poi basta un po di rossetto e ci sentiamo a posto però se voglio appunto che ho un uscita importante un evento allora voglio mettere questo fondotinta anche perché ragazze e voi sapete diciamo della mia iperidrosi ma vi devo dire che questo vediamo niente lo volevo aprire vabbè che questo fondotinta ecco è in polvere e quindi diciamo aiuta molto perché asciuga non è per niente cremoso è un proprio una polvere di fatti per chi ha la pelle un po secca è meglio prima idratarla bene a fondo poi siccome questi due rossetti mi sono piaciuti da impazzire ho preso un'altra colorazione di questa è un'altra colorazione di quest'altro rossetto o diciamo li ho scelti ieri sera adesso non vi saprei dire e che colori ho preso di questo naturalmente ho preso che sono tre quattro tonalità più scure e dei rossetti adesso non mi ricordo se ho preso di questo per esempio che un nude molto chiaro e sicuramente avrò preso un nude più scuro questo invece che da sul sul fucsia non mi ricordo se ho preso qualcosa che da sull'arancio qualcosa che da non mi ricordo ragazze mi ricordo appunto solamente che ieri ho scelto le tonalità che le tonalità sono bellissime quasi tutte poi un'altra cosa su instagram io seguo una ragazza che si chiama denise dell'anna se anzi se la volete seguire a tantissimi tantissimi follower fa dei bellissimi trucchi e lei diceva appunto che su sul sito su shane di shilam c'erano dei prodotti che venivano che costavano solamente un euro ragazze non è vero perché io sono andata cioè lei vi sosteneva che era una promozione che durava fino al 18 di giugno è che ogni giorno ci sarebbero stati dei prodotti che costavano un euro allora io sono andata e non li ho trovati però magari ho detto magari sbaglio io a cercare invece in risposta appunto a questa ragazza sulla sua pagina tutti dicevano che nessuno aveva trovato queste offerte a un euro quindi non rispondo a verità non so se questa ragazza non lo so a un rapporto di lavoro magari li hanno detto di dire questa cosa ma non risponde a verità ragazzi ho messo a bagno questo costume naturalmente un costume di calzedonia perché io compro sempre la sapete ieri sono stata al mare così ora lo sto lavando e volevo approfittare del fatto appunto visto che sto parlando di questo costume di calzedonia che sono andata un paio di giorni fa a dare un'occhiata al negozio ragazze non vi dico la bellezza la bellezza dei costumi che ci sono quindi io oggi vediamo appena finiamo con la il ritiro appunto di alessia delle partecipazioni vorrei fare un salto da calzedonia dove tra l'altro io una ragazza che conosco da anni che ho conosciuto grazie proprio all'acquisto dei costumi e che appunto lei mi segue sempre la adoro si chiama noemi e oggi vorrei andare appunto perché sono andata un paio di giorni fa però con la premura oggi vediamo se ce la faccio ragazze costumi stupendi io per esempio che adoro il turchese è il mio colore preferito c'erano tantissimi turchesi con pagliette con fiori in rilievo bellissimi naturalmente io non posso indossarli tutti vi stavo dicendo ragazze appunto che ci sono tutti questi costumi fantastici naturalmente io non posso indossarli tutti perché alcuni sono specialmente il sopra sono a triangolo insomma io porto sempre un modello che è appunto di sopra specialmente mi veste bene ma sicuramente ne comprerò un altro quest'anno vediamo se possa andarci oggi poi c'erano pure dei copricostumi bellissimi uno in particolare rosso con tutti i laterali di merletto sembrava sangallo bellissimo al costo di 49 euro comunque spero oggi di andarci a fare un salto e comprarmi il solito costume che io ogni anno mi compro l'anno scorso ne ho comprati due ho comprato questo rosso e uno invece lilla quest'anno penso di comprarne uno solamente e niente ragazze a questo punto io vi voglio salutare mi sono fatta il bagno nel frattempo ora passo il mocio e niente ragazze noi ci vediamo come al solito domani vediamo se più tardi posso fare un video di un pomeriggio insieme in ogni caso ricordate sempre che io vi voglio bene